Scusa, ti richiamo io, ti richiamo Giovanna. Luigi, ciao. Finalmente ho trovato che mi offre l'aperitivo. Ecco che cosa intendeva il mio oroscopo stamattina. Farò un incontro che ti cambierà la giornata, in peggio. Ma non dirmi che stai a dieta perché non ci credo. Sì, diciamo di sì. Tu, ma va. Ma chi hai fatto? Sono caduta, giocando a paddle. Farsi male un braccio giocando a paddle? È più probabile che tu ti rompa il naso giocando a scacchi. Ma tutto ok? Sì, è solo che adesso devo andare. Visto che hai fretta, perché non mi chiami? Che ne parliamo con calma? Magari hai qualcosa da raccontare al tuo ex compagno di banco. Ok. Fai così, chiamami nel primo pomeriggio, alle 15. Anzi, alle 15.22. Hai sempre i minuti contati, eh. 15.22. Grazie. Se domani sono io, se domani non torno, mamma, distruggi tutto. Se domani tocca a me, voglio essere l'ultima. Perché non mi sento, non mi sento, perché non mi sento, non mi sento, èivoskan a me, voglio essere l'ultima. Grazie a tutti.